Il silenzio non esiste, tutto è suono. Quando rimaniamo in silenzio in casa in realtà non siamo veramente in silenzio, siamo perennemente accompagnati dal suono dei 50 Hz che è la frequenza della corrente elettrica che abbiamo in casa. La corrente elettrica che abbiamo nelle case italiane è di 230 volt a 50 Hz. Questi 50 Hz possiamo immaginarceli come un'onda, una sinusoide, che ripete il suo ciclo 50 volte al secondo. Vi farò ascoltare questo suono amplificato che normalmente appare impercettibile. Di recente ho guardato il TED di Chiara Luzzana a Genova da cui ho preso spunto per fare questo video. Lei è una sound artist e compositrice di colonne sonore. Ha trattato in maniera approfondita questo argomento e inoltre produce musica registrando i suoni dalle città. Vi lascio il link in descrizione del TED di Chiara Luzzana. Grazie, a presto.